La situazione di volontariato rinascendo nasce in un primo momento esclusivamente per un endometriosi. Poi mi sono resa conto da donna, affetta da questa patologia plurioperata 12 volte, che la sofferenza non era solo la mia, ma tante persone soffrono di alte patologie e come ho sempre detto ho rimodificato lo statuto e mi sono messa a disposizione cambiando anche la mia attività lavorativa a favore dei più deboli, anche perché a causa delle mie patologie per lo stato non sono più in grado di lavorare. Ma sei Maria, io ti conosco, non mi ricordo più di me. Perché non lo faccio? Sono una volontaria. Ciao, forse adesso che mi conosco, io ho un tumore, faccio davvero terapia. Ciao, forse adesso che mi conosco, io ho un tumore, faccio davvero terapia.